Sono state 230 le persone controllate sull'intero territorio provinciale ieri dalle forze di polizia e dalle polizie locali per verificare il rispetto delle misure normative in atto per il contenimento della diffusione del contagio da Covid-19. 24 persone sono state denunciate per inosservanza delle prescrizioni stabilite dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 e del 9 marzo scorsi. E' ancora nessun denunciato per altri reati, 101 i controlli sempre ieri eseguiti negli esercizi commerciali. E' costantemente rinnovato l'invito della Prefettura di Caltanissetta rivolto ai cittadini a proseguire nella stretta osservanza delle misure di contenimento prescritte avendo cura in particolare di non spostarsi dalla propria abitazione se non per strette esigenze di necessità di lavoro e di salute. Resta fermo il divieto di assembramento anche soggetto di sanzione ai sensi dell'articolo 650 del Codice Penale.